Siamo con il nostro maestro di marketing e di corsi di formazione, Giovanni Matera, imprenditore titolare della Matera Arredamenti. La nostra guida, stiamo analizzando i vari capitoli della cassetta degli attrezzi. Oggi un capitolo particolare, ciascuno è titolare dell'impresa di se stesso. Ognuno di noi nel proprio piccolo, si legge nella cassetta degli attrezzi, è un imprenditore, qualunque sia il suo ruolo nella società. Sia che tu gestisci te stesso, la tua famiglia, i tuoi figli, un'azienda di 10 o 1000 collaboratori, tu sei sempre un imprenditore. Ciascuno è titolare dell'impresa di se stesso, è come tale unico attore del proprio destino, che non può ridursi a spettatore al teatro della propria esistenza. Quindi, come dire, prendere consapevolezza che il nostro destino lo facciamo con le nostre mani e il concetto di imprenditore non è solo un'idea, un concetto commerciale, ma è una realtà che deve essere attagliata e cucita su ciascuno di noi, perché noi siamo imprenditori, anche quando decidiamo la mattina di andare, la signora Maria va a fare la spesa e decide al mercato di andare al mercato per comprare le arance, perché costano di meno e con quello che risparmierà potrà magari mettere i soldi da parte per comprarsi una casa. Faccio imprenditori di se stessi. La signora Maria in quel momento sta gestendo una piccola azienda che è la propria famiglia, sta gestendo i propri figli, deve saper comunicare ai propri figli, farsi capire, deve saper comunicare col proprio marito, in tutti gli ambiti della nostra vita. Compriamo, vendiamo. L'altro giorno mi è successa una cosa bellissima, stavo facendo un corso vendita e un insegnante di materie umanistiche, lettere se non sbaglio, alla fine del corso si è reso conto che ho capito delle cose, che anche io quando inizio una lezione verso i miei ragazzi sto facendo una vendita e anche io sto applicando i stessi concetti che applica un imprenditore all'interno della sua azienda, quindi la comunicazione, la passione che ci metti, come farti capire, come tirare fuori quello che è il prodotto finale di valore. I ragazzi hanno acquisito quei concetti che tu stavi insegnando, quindi vedi, alla fine sei un imprenditrice a tutti gli effetti, noi la chiamiamo prof, è un ruolo da imprenditrice, perché l'idea che ci siamo fatti, che l'imprenditore è soltanto quello che ha l'azienda, che ha gli operai, che manovra con i cagni, con le attrezzature, no, siamo tutti, tutti, tutti imprenditori di noi stessi e avere un sogno, un sogno è quello creare qualcosa di tuo e avere un sogno per non fare la comparsa nel film della tua vita, nel film della tua vita tu devi essere il comprimario, il protagonista, il protagonista, l'attore protagonista, esatto, e non permettere agli altri di disegnare la tua vita, il tuo destino.